Al sindaco di Albino, architetto Luca Carrara, chiediamo di fare il punto della situazione sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Casa Albergo di Albino, alla luce anche delle dichiarazioni del segretario leghista locale, che accuse il suo gruppo, la lista Rizzi e il PDL, di un grande inciuccio per le poltrone. Cosa risponde, signor sindaco? Guardi, io ho provveduto alla scelta dei nomi e delle persone che compongono attualmente il CDA della Fondazione Onegar sulla base di competenze specifiche. Non abbiamo guardato all'appartenenza politica in senso lato, ma ci siamo davvero rivolti alla ricerca di competenze. Competenze in ambito sanitario innanzitutto, e quindi abbiamo individuato un medico, il dottor Zucca, che è direttore sanitario presso la Casa di Riposo di Casnigo. Abbiamo individuato delle competenze di tipo amministrativo, quindi la Paola Begnini, che è dottoressa, laureata recentemente proprio sulle società no profit, e quindi una competenza specifica, una capacità manageriale di cui siamo molto orgogliosi. Abbiamo individuato una competenza specifica nell'ambito dei rapporti con le persone nella Bielolini Luciana, una signora che è 20 anni, che si occupa di volontariato nel Comune di Albino, capacissima di attessere le relazioni e quindi come prima persona ad approcciarsi nei confronti dell'utenza, che quindi aveva bisogno di individuare una persona all'interno anche del CDA, alla quale rivolgersi per sottolineare eventuali problemi interni. Abbiamo individuato una persona, un imprenditore, vedo Vati Tiziano, che ha una memoria storica, anche politica amministrativa, sulla quale so che ci sono state delle perplessità, ma di cui mi fido ciecamente per le sue capacità imprenditoriali, ripeto, e per l'attenzione che ha sempre rivolto al mondo, anche dell'assistenza del servizio sociale ad Albino. E poi avevo chiesto, avevo chiesto espressamente, alle minoranze, se potevano indicarmi, proprio nella ricerca delle competenze specifiche, un membro di minoranza che però avesse delle caratteristiche più di tipo legale, amministrativo legale. Il nome della PDL e della lista Rizzi è convogliato su una persona che stimo, l'avvocato degli Acamozzi, ex assessore della Lega Lombarda, fino a qualche mese fa in Comune d'Albino, e quindi mi è sembrato una ipotesi plausibile. Ciò non toglie che il membro indicato dalla Lega Lombarda, Manuel Pezzotta, fosse una persona, ex membro del CDA uscente, stimabile, che ha competenze specifiche, però in un altro settore, non è residenza d'Albino, ma questo per me non è un pregiudizio, era semplicemente, ripeto, il tentativo di individuare una squadra che per competenze potesse davvero creare un gruppo di lavoro capace di fare bene per la nostra fondazione O'Negra. Ripeto, sono nomine che il sindaco fa, sono nomine irrevocabili, nel senso che poi a questo punto sono loro, in loro completa autonomia, che diventeranno per i prossimi tre anni, sono diventati per i prossimi tre anni gli amministratori della fondazione O'Negra.